benvenuti sul mio canale di arte cucito e dintorni in questo video vi farò vedere come io coloro la pasta di maizena e se volete fare la pasta che faccio io potete andare sul mio tutorial che arte cucito e dintorni tutorial numero 4 pasta di maizena porcellana fredda io dopo averla fatta la conservo nel frigo a penetti in questo modo quando la prendo risulta un po dura però poi la lavorando la si ammorbidisce se capita che può essere un po appiccicaticcia metto un po di maizena allora non metto crema non l'ho presa neanche perché colo con i colori la pasta si ammorbidisce preparo prima un po il colore e vi consiglio nel caso di farlo pure voi per essere sicuri che avete usato i colori giusti ci vuole un po di maizena da tenere a portata di mano un pennellino che bagnate prima di usarlo e un piattino per provare i colori allora il colore che ho pensato di fare è il lilla e il bianco non non l'ho preso perché come bianco c'è la pasta alla funzione del bianco quando si colora e come colori ci vuole questo azzurro che ciano ecco si chiama ciano proprio e poi ci vuole il magente rosso magenta anche se veramente nel video si vede come rosso però in effetti va e più fucsia e più sul rosso fucsia se avete poco dimestichezza con i colori oppure non ne avete per niente però volete provare a fare la pasta di maizena e colorarla e potete comunque interro fare l'interrogazione su google magari scrivendo con quali colori fatto che solo arancione oppure quali colori usare per fare il marro chiaro allora adesso passo a miscelare i colori bagno e pennello lo asciugo un poco e comincia a mettere prima il ciano il colore giano che un azzurro comunque e poi e metto di questo pure del colore magenta ma come ne serve un altro pochino lo prendo qua ecco come vedete è venuto il viola magari non si vede molto allora io in effetti il bianco l'ho preso ma non per la pasta perché il bianco già come ho già detto e la pasta l'ho preso solo per fare l'il acqua ho messo un po di bianco poi secondo la tonalità che voglio fare aggiungo il bianco così lo stesso criterio e con la pasta adesso posso i colori e comincio a colorare la pasta inizio a mettere e ne faccio solo un pezzetto quindi logicamente i colori e vi conviene usarli pochissimo alla volta potreste facendolo qua potreste fare anche quello però si sfiarisce con questa poi dipende da come piace il colore come si vuole allora io comincio a mettere un po di azzurro in questo pezzettino di pasta ecco ne uso poco in questo caso prima di fare il viola diciamo che si mischia il bianco ecco perché c'è la pasta che è bianca quindi metto un altro po di colore dovete sempre tener conto del fatto che la pasta è bianca e comunque usare sempre un po alla volta almeno io faccio così li uso sempre un poco alla volta i colori metto un poco di rosso emergente se non avete più pasta potete mettere pure un po di colore perché vi faccio vedere che comunque questo è un colore un po liquido vi faccio vedere che comunque si schiarisce io quando capita che non ho che ho finito la pasta e quindi ma devo finire il lavoro che stavo facendo faccio proprio così metto il bianco vedete si è già più o più schiarita ecco le metto un altro po e allora io prendo la pasta e ne metto un altro pezzo però ecco vi faccio vedere se voi non avete volete già la pasta e tanta non volete che diventi molta potete staccarne un poco ecco la conservate quindi avrete il colore viola della pasta e unite la pasta bianca al colore naturale così non diventa molto e comunque avete il risultato di fare un colore magari più chiaro che vi siete che avete deciso allora io l'ho impastata come vedete il colore si è molto schiarito non è ancora lilla in effetti la pasta quindi io per esempio siccome non voglio fare tanta pasta perché soltanto per farla vedere nel video prendo solo un pezzetto e metto un altro pezzo di pasta bianca metto più o meno la stessa quantità che in effetti allora come vedete adesso la pasta è molto più chiara anche se nel video continua a vedersi sempre diverso il colore comunque con i colori la pasta si è molto ammorbidita quindi io metto un po' di maizena e allora ho adesso queste tre tonalità vedete questa questa viola un viola più chiaro è lilla questo in effetti adesso è lilla infatti si vede molto chiaro vi volevo dire quando il colore comincia a diventare più chiaro lavatevi i guanti vi lavate le mani io li lavo con un po' di detersivo per i piatti e li strofino bene perché altrimenti vedete il colore delle mani non quello che era la pasta e sbriciola un poco quando si impasta e si stacca e si attacca alla pasta quindi vi conviene ogni tanto lavarvi le mani soprattutto quando usate passate dai colori dal colore scuro al colore chiaro questo se è lo stesso colore invece se state lavorando tipo ecco anche adesso il viola e lilla dovete fare passare a fare un rosa un altro colore specialmente chiaro vi conviene addirittura cambiare i guanti comunque io lavo li lavo anche per li faccio asciugare anche per riutilizzarli la cosa che vi volevo dire io uso colori acrilici e poi prima quando cominciate volete cominciare a fare il colore fatene provatelo in poca pasta e se volete vedere invece che colore diventerà nel momento in cui si scurisce allora potete fare come ho fatto io qua che ho messo da parte la pasta che ho fatta chiusa bene io la faccio sempre a panettini così e poi ho aperto per vedersi meglio la pasta di tutte e tre così quando queste sono si sono scurite vedrò farò il confronto con questi colori per vedere di quanto si sono scuriti come potete vedere io ho messo i pezzi di pasta che ho lasciato per asciugarsi anche se non è proprio asciutta al massimo proprio sopra ogni panetto così si vede proprio la differenza quindi io vi consiglio di farla questa prova ricordate sempre che se la volete molto più chiara dovete aggiungere pasta oppure potete aggiungere il bianco se non volete far aumentare il volume della pasta se la volete più scura e aggiungete logicamente un poco di colore sempre tutto un poco alla volta un altro modo per colorare la porcellana fredda è quello di miscelare la pasta già colorata che magari vi è rimasta in precedenza i vari colori si possono mischiare fra di loro e così otterrete altri colori di pasta proprio come se la pasta stessa è un colore fare quindi come se state usando proprio dei veri e propri colori allora io vi faccio vedere ecco che conservo quando mi restano dai lavori i colori e questo è un po mischiato con avevo fatto qualcosa un po con l'arancione poi qualcosa col giallino quindi l'ho messo tutti assieme perché sono più o meno dello stesso diciamo della stessa famiglia di colore anche questi ecco questo è più scuro questo è più chiaro perché io poi li uso ad esempio se devo fare voglio fare qualcosa di rosa molto chiaro come metto la pasta naturale e diventa secondo quanta ne metto diventa diventerà una tonalità più chiara o molto più chiara così anche per gli altri insomma si possono usare anche come se fossero dei colori e miscerali fra di loro vi consiglio di ricordare questi tre punti che se volete colorare la pasta con un unico colore ad esempio miscelando il blu con la pasta che è bianca a secondo di quanto ne mettete verranno tonalità più o meno chiare invece se volete fare un colore particolare tipo il salmone o altre vi conviene provare comunque il colore nel piattino se volete dei consigli potete scrivermi nei commenti anche per altri lavori se invece volete scrivervi il suono lo sapete il suono della campanellina vi avviserà quando farò altri video se ritenete che questo video possa essere interessante anche per altri potete condividere se invece cliccate su mi piace saprò se il video è stato di vostro gradimento grazie per aver guardato il mio video e ciao